Buongiorno Popolo Rossonero, buongiorno Popolo Del Bandito, buona domenica 19 di maggio. Allora oggi facciamo un po' di rassegna stampa perché mi permette di occuparmi dei due temi e di prendere spunto per parlare dei due temi principali di oggi, quindi la sconfitta del Milan in quel di Torino di ieri e naturalmente le ripercussioni della giornata drammatica in casa prescrittese, cartonese, non bancabile, pignorabile e quindi partiamo subito prima però mi raccomando sempre per l'utilità, la crescita del canale vi chiedo un like al video, di iscrivervi perché più siamo più contiamo e la campanella per le notifiche, per ricevere i video, quindi io vi ringrazio e ringraziando ancora i nuovi abbonati Domenico Rechichi, Alessandro Cagni, Oreste, Guido Massari, Fabio Gianluca Cipolla, Milano Brasileira e Giovanni De Socio, grazie a tutti e partiamo con la rassegna stampa. Allora partiamo con il giornale Rosa, perché anche ieri il giornale Rosa, fornettore ufficiale, si è distinto per la sua fedeltà, per la sua fedeltà al ruolo di organo di partito facendo un articolo incredibile in cui ha attaccato un responsabile della comunicazione di Oktri, albanese, che ha la gravissima, incredibile colpa, macchia, disonorevole di aver lavorato alla Juventus e quindi da qui siccome Oktri ieri doveva passare per il cattivone, come osa Oktri far valere i propri diritti di creditore? Ma come osa? Ma da quando in qua uno che ha un credito pretende che venga risarcito dal debitore? Ma come si permette Oktri? Ma Oktri non sa con chi ha a che fare, non sa con chi Oktri, è una cosa pazzesca, ragazzi, se lo sente biasina, si indigna, dice ma com'è possibile? Da quando un creditore vuole indietro i propri soldi? No, no, non è ammissibile. Allora la Gazzetta ieri è partita con questo attacco assurdo ad albanese, la cui colpa è di aver lavorato per la Juventus, quando loro hanno Don Marotta e qui io mi fermo perché penso che sia inutile continuare. Andiamo oltre. Inter, festa e caos. Zanga accusa il fondo Oktri, mette a rischio il futuro del club, ma la società può passare di mano. Allora, in sostanza è quello che dicevo ieri, ma questi fino adesso dove sono stati? Questi con che coraggio parlano. Con che coraggio dicono adesso queste cose? E mi aggancio anche a Carlo Festa del Sole 24 Ore, di cui ho parlato già in un video del 24 aprile quando ci raccontava che era tutto fatto fatto per Pinco, che ci sarebbe stato un prestito ponte che avrebbe portato all'arrivo di questi arabi. Evidentemente il 24 aprile si era sbagliato Carlo Festa. E allora Carlo Festa ieri, dall'alto della sua precisione, ci ha detto che sì, Oktri rileverà il club, ma ha già un compratore, ha già un compratore, perché questo adesso è il passaggio della narrazione. La narrazione adesso per un paio di giorni, se proprio non ce la fanno, sarà che sono cattivoni quelli di Oktri, albanesi, sono cattivoni. Se poi Oktri effettivamente rileverà l'Inter, la narrazione diventerà, c'è già il compratore pronto. Allora noi ricordiamo a Carlo Festa che forse dall'alto della sua esperienza economico-finanziaria vi ha sfuggito, che esiste riguardo al bond in scadenza 2027 di 415 milioni a carico dell'Inter, esiste una clausola chiamata Chang of Control. Cosa succede? Questa clausola obbliga l'Inter a proporre il rimborso integrale delle obbligazioni nel caso di un cambio di proprietà del club. Sarebbe sufficiente un solo obbligazionista a far scattare l'obbligo. Questo cosa vuol dire? In parole povere, 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 povere. Che se veramente Oktri avesse un compratore, questo compratore oltre ai soldi che deve spendere e mettere per acquistare l'Inter, dovrebbe accumulare subito, mettere lì, come se li usasse per acquistare l'Inter, i 415 milioni per ripagare il bond a carico dell'Inter. Quindi vuol dire il prezzo d'acquisto che chiederà Oktri più 415 milioni. E allora noi saremo, vedete, non si finisce mai di combattere contro la narrazione, non si finisce mai. Quindi noi saremo qui sulle piste di Carlo Festa in attesa che Oktri prima rilevi la proprietà dell'Inter e poi vedremo se anche in questo caso si sbaglierà Carlo Festa come se era sbagliato il 24 di aprile e vedremo se ci sarà immediatamente un compratore pronto a rilevare l'Inter comprandola e aggiungendoci 415 milioni del bond. Staremo a vedere. Anche in questo caso vedremo chi ha ragione. Corriere dello sport, poi passiamo a noi perché noi non è che ci possiamo salvare sempre parlando degli altri, dobbiamo anche parlare un po' della nostra difesa. Corriere dello sport alla resa di Zang a rischio la stabilità e noi lo diciamo qui sul canale del bandito rosso nero, lo dice Zang. Oktri ha in pugno l'Inter. Tutto sport, infrantumi la stella di Zang, vorrei dire a tutto sport che non può andare in frantumi la stella di Zang perché il cartone non va in frantumi. Niente accordo con Pinco, avventura agli sgoccioli. Duro comunicato di Suning contro Oktri pronto ad assumere il controllo del club e a confermare la fiducia al management guidato da Marotta. Anche qui staremo a vedere, perché questa è un'altra delle narrazioni che passa, la narrazione che avremo in questi giorni sarà non cambia nulla, Oktri diventa il proprietario e mantiene tutto così com'è perché funziona e ha già un compratore pronto che, come dicevo prima, avrà 415 milioni da aggiungere al prezzo d'acquisto per ripagare il bond fatto da quell'altro e a carico dell'Inter. Questa sarà la narrazione dei prossimi giorni. E ahimè, parliamo anche di noi, il giornale Rosa titola Un toro da coppe, Milan travolto, ora l'Europa è più vicina. Ovviamente Cairo esalta la prestazione del dettoro. Il Corriere dello Sport di noi non parla, quindi il titolo è sull'Allegri, quanto amore, messaggi social di calciatori e tifosi. Tutto sport invece ovviamente, essendo di Torino, gol di Toro, l'Europa è lì, Milan travolto e Napoli sorpassato. Allora, la nostra difesa, la nostra difesa. I gol li avete visti, non parlo del terzo, il terzo è il tiro della domenica, ma i due gol del primo tempo sono inammissibili. Il crossatore libero di prendere la mira e di crossare, sia da una parte, a sinistra, Rodriguez, sia a destra, a Bellanova, prende la mira, la mette dentro bene perché non ha nessuno che lo contrasta e in entrambi i casi il colpitore di testa è libero di metterla dentro. E così non può andare. Così non può andare, chiunque sia l'allenatore che avrà la prossima stagione, deve essere un allenatore che organizza difensivamente questa squadra. Per capire cosa intendo dire che organizza difensivamente questa squadra, vi invito ad andare a vedere il film bellissimo sulla finale Milan-Barcellona 4-0, in cui i difensori del Milan in quell'intervista ci sono Costa Purta, Parucci, Tassotti e Filippo Gali, c'è tutta la difesa, quella splendida difesa e dalle loro parole si può capire la differenza che esiste tra un'organizzazione difensiva, tra una difesa di reparto e tra la nostra difesa che abbiamo visto per tutta la stagione e che abbiamo visto anche ieri. Quattro giocatori che vagano per il campo, un Terracciano che era più a fare la mezzala che a fare il terzino, lo stesso Caluno dall'altra parte, i crossatori del Torino belli liberi e belli liberi al centro di colpire. Quindi io non so chi sarà l'allenatore della prossima stagione, ma chiunque sia l'allenatore della prossima stagione sia preso per le sue capacità di organizzare collettivamente di reparto un reparto difensivo, come si faceva una volta. Noi avevamo una difesa che lavorava di reparto, una difesa che ha esaltato i singoli, ogni singolo di quella difesa e avevamo un allenatore che dava molta importanza a questo e sia Sacchi che Capello che Ancelotti hanno fatto le loro fortune su quella difesa e su quella organizzazione difensiva. Torniamo a organizzare la nostra difesa perché così non si può andare avanti. Quindi io non so chi sarà l'allenatore, ma chiunque sia, sia uno capace di organizzare difensivamente di reparto la squadra della prossima stagione. Se siete d'accordo mettete un like al video, iscrivetevi al canale, campanella per le notifiche, ovviamente ci aggiorniamo a pomeriggio e penso dopo Sassuolo-Cagliari perché vedremo come sarà andata Forza Cagliari. A dopo, Forza Milan sempre!